Dottoressa Speciale, si celebra oggi la giornata nazionale dell'incontinenza. Nei giorni passati qui, agli ospedali riuniti Villa Sofia Cervello, avete organizzato un'iniziativa. In cosa consisteva? In realtà l'iniziativa viene fatta già da tanti anni, in quanto noi siamo un centro accreditato con la Finco, poiché la Federazione Nazionale per l'Incontinenza Urinaria e Patologia del Pavimento Pelvico. Per cui noi ogni anno organizziamo una o due giornate di ambulatorio Open Day, in cui le pazienti possono recarsi direttamente e afferire da noi senza ricetta medica, e avranno già il primo contatto per quella che è la valutazione poi del problema dell'incontinenza urinaria femminile. Noi trattiamo soltanto donne. Il nostro ambulatorio ha la possibilità di effettuare la diagnosi e poi il trattamento dell'incontinenza urinaria, che è in tutte le sue forme. Quindi partiamo dalla prevenzione, dalla prevenzione dei consigli anche di tipo igienico-comportamentale, per poi fare anche dei trattamenti sia ambulatoriali e poi infine anche chirurgici. Quindi diciamo che il nostro centro è a 360 gradi il punto di riferimento reale in cui ci si può approcciare per risolvere questo problema che ha una grossa importanza, una grossa valenza anche per la qualità di vita delle pazienti. Sono molte le donne che sono venute in questi due giorni? In questi due giorni abbiamo avuto in realtà il pienone. I posti disponibili sono stati esauriti subito, per cui poi abbiamo dovuto consigliare alle pazienti di venire con le modalità istituzionali, la ricetta medica. E questo ci ha fatto grande piacere, anche perché ha permesso di far sì che molte pazienti capissero che devono estrinsecare questa problematica, e non tenerla per sé. Perché purtroppo io mi occupo di incontinenze urinarie ormai da qualche anno, da un po' di anni, e vedo come la paziente cerca sempre di sminuire il problema, ritenendo che sia una cosa normale. E un po' è anche colpa degli operatori sanitari che non riescono a estrinsecare nelle pazienti dal medico di base al ginecologo questo tipo di problema. Anzi, purtroppo mi dispiace dire che in molti casi sono loro stessi a far sì che la paziente pensi che sia un fatto assolutamente normale a cui si deve rassegnare. Invece, per me è un problema importante anche da un punto di vista sociale, perché ormai con l'allungamento dell'età media è tenuto conto che l'incontinenza urinaria non è una patologia legata solo all'età anziana, ma moltissime donne giovani, quarantenni, che fanno attività fisica, che hanno una vita sociale, sessuale, relazionale, vivono con estremo disagio questo problema dell'incontinenza sia nella forma da urgenza sia nella forma appunto da sforzo. Per cui sono a volte limitate nell'uscire, nel fare attività fisica, nell'avere rapporti sessuali, perché hanno queste perdite di urine che possiamo benissimo comprendere non sono assolutamente piacevoli. Quali sono i trattamenti oggi in uso? I trattamenti, come dicevano, intanto facciamo un approccio clinico-anamnestico alla paziente, quindi cerchiamo di ridurre le abitudini di vite errate, le abitudini minzionali errate, invogliare a un calo del peso corporeo, a ridurre il fumo, a limitare alcuni alimenti che possono essere non favorevoli in queste situazioni. Poi facciamo la diagnostica, perché l'incontinenza urinaria non è incontinenza urinaria e basta, ma li abbiamo di tre forme, da sforzo, da urgenza e la forma mista. Quindi qua è importante anche fare la diagnosi, al momento in cui abbiamo fatto la diagnosi, le due forme hanno dei trattamenti diversi, o farmacologici, o terapia fisica, che facciamo ambulatoriamente con la simulazione del tibiale, e poi possiamo fare qua o il trattamento chirurgico, anche dei prolassi, che però non rientrano nell'ambito dell'incontinenza urinaria, correggendo quindi chirurgicamente questa ipermobilità uretrale che porta alla perdita di urina, oppure inserendo il pacemaker, il neuromodulatore sacrale, che va a modulare l'attività dei nervi del plesso pelvico, che poi possono dare la forma d'urgenza. Oggi per esempio è giornata di diagnostica e clinica, cioè afferiscono le prime visite, quindi visitiamo le pazienti e cominciamo a inquadrare la problematica. Poi facciamo, stamattina facciamo l'urodinamica, che è un esame di agnostico importante per l'inquadramento nosologico della patologia, e poi abbiamo l'attività chirurgica, un giorno a settimana, eseguiamo le cistoscopie, abbiamo due posti letto più due posti dei sargeri, e quindi eseguiamo queste pazienti che vengono operate. Trattiamo in media più di 100 casi all'anno, che per una piccola realtà come la nostra sono abbastanza. E poi facciamo l'esame l'esame cistoscopico, il giovedì pomeriggio, e il venerdì e il sabato ho introdotto da qualche mese questo trattamento ambulatoriale della stimolazione del tibiale, che facevamo negli anni passati, poi per una serie di problematiche di tipo organizzativo non eravamo più riusciti a eseguire, e che abbiamo ripreso, e che ha una grande aderenza con le pazienti, perché pazienti che non si possono operare, o pazienti che non vogliono operarsi, riescono a fare questo trattamento una volta a settimana e avere un miglioramento della forma di incontinenza da urgenza. Grazie a tutti.